Io lo mandalo in onda Ma che? Ho fatto sentire Gentilini che dice Santini si deve ritirare perché i perdenti fanno pietà Ti proteggiamo noi, guarda che ti invitano ancora a rete 4 Mandalo in onda tranquillamente Toni da Milano, vai Toni da Milano Calma Toni, cosa vuoi stasera Toni? Giuseppe Cruciani sei un vigile urbano Vuoi diventare questore di Milano Ma non ci zittisci e non ci fai paura Ce ne fottiamo della tua censura Oh brutto questore maledetto Ma di chi stai parlando? Di me? Di questore maledetto Porta rispetto per i questori Esatto, innanzitutto i questori e la polizia hanno il mio massimo rispetto Il mio grandissimo rispetto Il mio grande rispetto per la polizia Per le forze dell'ordine Iscriviti, hanno aperto un nuovo concorso Iscriviti che ti troverai bene Posso dirti una cosa Posso dirti una cosa Toni, non è il mio mestiere Però se io ho tanti anni di distanza Devo dire che non mi sarebbe dispiaciuto fare il poliziotto Ma va a cagare Orson Welles di Viale Sorca Ascoltami bene Volevo dire due cose Prima di tutto volevo attaccarti Su essere un reazionario di merda Sull'occupazione del Manzoni Però qui mi devi far parlare Perché io andavo in un altro Non me ne frega niente Posso dire che adesso farò ascoltare delle voci Farò ascoltare delle voci Sì ma io ti voglio dire che andavo in un altro liceo a Milano Una volta quando abbiamo occupato Un tizio ha portato un vitello a scuola Ed è una roba vera Poi ti manderò le foto in chat Che ce ne frega a noi del vitello a scuola Vabbè comunque Poi volevo festeggare l'annessione L'annessione dei gloriosi territori del Donbass Alla madrepatria russia Ah questa è molto grave Parenzo su questo E ma fanculo con la merda di Vittorio da Roma Che ha attaccato la compagna Olga Che colgo l'occasione per salutare La compagna Olga Ma branco di criminali Branco di sostentori di un macerlaio Ma qua non si solleva nessuno Quello è un esercito occupante Che verrà presto rispedito a Mosca Qui c'è Tony da Milano Tony da Milano Mi sembra di capire Che esalta l'annessione russa Cioè festeggia per l'annessione Io sono un grande estimatore di Wilson E dell'ONU E quindi rispetto all'autodeterminazione dei popoli Ma qua l'autodeterminazione E' stato un gref E' idiota Ma chi sei dell'ONU Davide provincia di Bologna Incredibile Comunque sono qua Si insulta dicendo Ma chi sei dell'OSCE No Sono qui si dice come insulto Ma che cosa sei Ma chi sei qua Sei dell'OSCE Che nessuno sa che cos'è Purtroppo l'OSCE Ma potremmo fare un approfondimento Sì tu ovvio che lo sai Però insomma Ma che cosa sei Sei dell'OSCE Nessuno lo capisce Va bene Davide provincia di Bologna Sì buonasera Ma che si vergognasse Quello prima di me No Due polemiche velocissime Una sul signor Oliviero Toscani L'altra sul signore Un po' in ritardo Sì buonasera